il centro porsche verona in occasione delle feste ha pensato a te sei christmas box uniche in edizione limitata oggi presentiamo la box porsche heritage pensata per chi ama vivere ogni giorno con stile scopriamo insieme il contenuto all'interno troviamo un astuccio porta carte impregiata pelle grigie antracite con logo porsche impresso un raffinato porta chiavi beige in vera pelle con stemma porsche e anello in ottone e un elegante spilletta con stemma porsche riserva fin da ora la tua porsche christmas box che potrai acquistare presso il nostro showroom per richiedere informazioni visita il nostro sito vicentini.it vivi un natale esclusivo firmato porsche